Questa mattina Ninna Morich si è svegliata così, lanciando una pesantissima accusa a Belen Rodriguez. La Morich ha pubblicato lo screenshot di una conversazione avuta con suo figlio, Carlos Maria. L'ex moglie di Fabrizio Corona avrebbe raccontato dei fatti accaduti proprio il giorno della vigilia, quando Corona stava ancora con Belen. Negli screenshot Carlos confesserebbe alla madre che Belen lo avrebbe fatto bere quando ancora era minorenne e poi lo avrebbe baciato in bocca e alla fine il ragazzo chiede di essere riportato a casa. La modella croata ha commentato l'accaduto chiedendo alla sugar l'argentina perché avrebbe fatto ciò. Insomma accuse pesantissime nei confronti di Belen che non hanno ancora trovato una risposta. grazie all'in того, a tutti. Grazie per aver guardato canale t�면, Summer sonobbe? Ruiz? Ricano cui toti non, a tutti. Suri l'ig Ronnie,? Ricano benvenlle, Mikinnolo, Fuaduro- foundato c pedo con march장 e Zio Cadillac. Grazie a tutti i nostri allegori conno di cleansia.